La Guardia di Finanza di Vicenza, insieme al nucleo operativo speciale della Polizia Locale, continua nel loro impegno contro il traffico illecito di droghe nel capoluogo berico. In seguito a un'attenta indagine e segnalazioni cittadine, è stato eseguito un intervento in un appartamento nel quartiere San Pio X. Con l'ausilio delle unità cinofile sono stati scoperti e sequestrati 19,60 grammi di cocaina, 11,85 grammi di eroina, 5,94 grammi di crack e 0,86 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi pronte per la distribuzione locale. Inoltre sono stati confiscati 1.270 euro in contanti, due bilancini di precisione e materiali per il confezionamento delle dosi. Due individui di origine nigeriana sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre un terzo è stato denunciato a piede libero, tutti con precedenti specifici legati al traffico e alla detenzione di droghe. Questa operazione dimostra l'impegno costante della Guardia di Finanza e della Polizia Locale nella lotta allo spaccio di droga, con pattugliamenti irregolari e l'uso delle unità cinofile per preservare la sicurezza dei residenti nelle aree più vulnerabili di Vicenza.